Spider, io ho una faccenda per cui serve il tuo aiuto. Alcuni banditi della zona hanno conquistato la strada che va da Trench a Deadrock. Prima si limitavano a furti e omicidi, ma ora quel pazzo del capo... Un po' di più. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 ... a tutti. ... 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 ......